Entro il 4 maggio la Raco SRL si impegna a presentare tutte le certificazioni e le dichiarazioni di conformità dell'impiantistica del Teatro Giordano. Ad annunciarlo è l'assessore Giuseppe Cavaliere nel corso della prima manifestazione pubblica pro Teatro Giordano, organizzata dall'Associazione Qualità della Vita dell'Avvocato Miranda. La città vuole riprendersi il suo teatro dopo sei anni e vicende tribolate. La questione delle certificazioni si annoda attorno alla vicenda del subappalto che aveva fatto scattare le indagini della Procura. Per eseguire i lavori all'interno del teatro sono necessarie le specializzazioni in restauro e impiantistica, caratteristiche non in possesso della Raco SRL. La ditta, forte di una legge che lo consente, si avvalsa di una seconda impresa in possesso dei requisiti necessari. L'insorgere di un contenzioso tra le due ditte ha bloccato poi tutto. Condizione particolarmente delicata per quanto riguarda il sofisticato impianto antincendio Water Mist, per la cui dichiarazione di conformità l'impresa deve operare un collaudo in scala. La complessità delle vicende tecnico-amministrative ha infervorato la cittadinanza in sala, che, stanca di promesse con scadenza trimestrale, chiede certezze e si prepara ad attendere ancora una settimana.